I giochi da tavolo completamente accessibili anche ai sordi. È l'obiettivo del progetto Lit in Lis, promosso dall'associazione lucchese Ludus in Tavula e presentato all'ex cavallerizza nell'ambito della mostra per i cento anni dell'aeronautica in occasione della giornata dedicata ai giochi da tavolo. Grazie al progetto ideato da Isabella Paoli, interprete del TG List di Noi TV, a partire da oggi sono disponibili online video tutorial e videopillole che spiegano nella lingua dei segni le regole dei giochi da tavolo. Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia. I videotutorial sono tutorial di giochi da tavolo con la compresenza dell'interprete e saranno pubblicati sul nostro canale YouTube. Le videopillole trattano di termini specifici del mondo dei giochi da tavolo e saranno pubblicati sul nostro canale Instagram. Quindi seguiteci, Ludus in Tavula Channel su YouTube e Ludus in Tavula APS su Instagram. In omaggio ai cento anni dell'aeronautica, il primo video è dedicato alle regole di Wings of Glory, il War Games che fa rivivere i duelli aerei della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Alla presentazione del progetto sono intervenuti il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, l'esperto di giochi ed aviazione André Angiolino e l'editore di Wings of Glory, Roberto Di Meglio. Presenti anche Giovanni Minniti e Simona Testaferrata, assessori del comune di Lucca, ente che ha contribuito al lancio del progetto. Per il direttore dei comics, Vietina, quello dell'inclusività dei giochi è un filone del quale Lucca deve diventare capofila in Italia. Un progetto straordinario nato su Lucca, un'altra delle grandi eredità dei 30 anni di Lucca Games, è il momento che Lucca Crea e la città di Lucca si faccia portabandiera di questi valori perché a livello nazionale e internazionale l'inclusività attraverso il gioco sia ancora uno dei messaggi più importanti da portare avanti.